Buonasera a tutti i lettori di Commodities Trading e benvenuti in questo nuovo appuntamento video. Oggi è 6 dicembre 2016 e come si può facilmente intuire dalla cover andremo a parlare di Greggio. Prima di partire con i nostri discorsi ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo che tutte le informazioni contenute all'interno di questo video sono da intendersi a carattere puramente informativo e non costituiscono assolutamente sollecitazione all'acquisizione di posizioni sul prodotto nell'una e nell'altra direzione. Quindi come ormai un po' il nostro mantra, ognuno con la sua testa. Per quanto concerne gli argomenti di questo mini video di oggi andremo a parlare, come abbiamo visto, di Greggio e andremo a vedere cosa sta succedendo in termini di produzione, perché in attesa del report mensile ufficiale dell'OPEC c'è già qualche sondaggio che ci sta parlando di, indovinate un po', un aumento di produzione dell'OPEC. Appunto il sondaggio è stato condotto, almeno perlomeno quello a cui facciamo riferimento noi, è stato condotto da Bloomberg ed evidenzia un aumento della produzione OPEC oltre i 34 milioni di barili giornalieri. Questo è un po' quello che nella sessione di oggi ha destato un po' di scompiglio nei mercati. Aumento che è attribuibile in parte ad alcuni produttori africani, tra cui Libia e Nigeria. Libia e Nigeria sono due nazioni che sono state esentate dall'aderire agli accordi siglati a Vienna, ma che comunque hanno un forte potenziale produttivo che, come abbiamo già anche detto negli articoli sul nostro portale, potrebbe andare ad influenzare negativamente il raggiungimento del target a 32,5 milioni di barili giornalieri previsto dagli accordi di Vienna. Magari non ad inficiarlo del tutto, però diciamo che la strada per arrivare verso il target prefissato potrebbe farsi un po' più ardua, soprattutto se queste due nazioni dovessero iniziare a elevare la produzione troppo velocemente. In ogni caso, questo è un po' l'argomento di oggi. Tutti questi dati li troverete negli articoli di domani delle 6 e delle 10, andremo a definire la situazione più nel dettaglio, questo per riportare un po' meglio e rendere più comprensibile il tutto. Andiamo quindi avanti, vediamo un piccolo aggiornamento grafico, quello che stiamo osservando è il contratto gennaio 2017, siamo a 50.93 dollari per barili in calo dell'1.66%, WTI stiamo parlando ovviamente. E dunque, vediamo, qua abbiamo la nostra bella candela rialzista conseguente agli accordi di Vienna, abbiamo forzato la media mobile a 200 giorni, di cui abbiamo parlato nelle precedenti analisi grafiche, e i prezzi sono arrivati in modo direi abbastanza preciso rispetto ai target che avevamo stabilito nelle nostre analisi grafiche. Ossia si era parlato di raggiungere nuovamente quota 52.7-52.6 dollari per barile e effettivamente questo è quello che è successo. I prezzi sono andati molto vicino a questi livelli nella sessione del 5 di dicembre e mentre oggi abbiamo una situazione, lo vediamo da questa candela, sostanzialmente di indecisione. Diciamo che qua la corsa c'è stata, probabilmente sono arrivate delle prese di profitto non così forti da decretare un vero e proprio crollo come quelle a cui il greggio ci è abituati, però diciamo che si sta, perlomeno nella giornata di oggi, è evidente un po' di indecisione. Tutto questo movimento di prezzo, cosa comporta per noi? Non comporta poi chissà cosa, diciamo, perché sostanzialmente, almeno per ora, si è verificata l'ipotesi a cui avevamo accennato, ossia forzatura della media mobile a 200 giorni, ci siamo riportati sopra la nostra trendline, questa la vediamo, questa blu, di lungo periodo, però i prezzi risultano ancora all'interno di quell'ampio canale laterale che trova appunto la prima resistenza in area 52.7, 52.6 dollari per barile in prima battuta e sempre rimanendo nel contratto gennaio 2017, 53.8. In termini di supporto, cosa dobbiamo aspettarci? Da questo, visto anche lo sviluppo delle candele precedenti, non è escluso che ci sia ancora un piccolo storno nelle sessioni seguire, diciamo che molto dipende da come verrà, da come sarà l'evoluzione della nostra candela odierna di cui abbiamo parlato in precedenza. In ogni caso, primo livello di supporto lo possiamo collocare nuovamente a ridosso della media mobile che transita, tra le altre cose, vicino al ridosso della trendline di lungo periodo. Questo è un po' il punto principale di supporto che dobbiamo andare a considerare. Detto ciò, possiamo anche prendere in considerazione uno step intermedio, diciamo nell'area 49.20, 49.2 dollari per barile, però secondo me se arriveranno delle vendite è possibile che la media mobile andiamo di nuovo a testarla. Quindi diciamo questa è un po' la situazione. Quindi, riepilogando il tutto, primo supporto, media mobile 200 giorni e trendline, prima resistenza 52.6, seconda 53.8 dollari per barile. Questo è tutto per questo breve appuntamento, vi rimando a domani con i nostri articoli sul portale. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, buon trading a tutti.